questa è la mia switch switch nintendo switch oggi mi hanno comprato mia mamma le cuffie nuove della box one che sono compatibili solo per la box one costano 30 euro 30 euro devo togliere questo qui questo lancio qui e non devo rompere la scatola perché così se non funziona le cuffie perché quelle dell'hp quelle lì non mi andavano e allora ho chiuso mia madre andiamo a prendere le cuffie queste qui guardiamo devo prendere forpici guardiamo se ci sono anche dentro delle forbici provate attore attore sì 53 secondi ancora due punti in carniere sorriso sorriso siamo a 30 sembra in buona forma anche oggi aperto tanto questo qui mettiamo le forbici la vediamo questo qui torniamo a prendere ancora 45 secondi e 3 passi non tanto cosa favorisci mi prendo i testi noi andiamo dove è aprirla a una cosa prima di aprire le cuffie aggiungiamo le spot one s si sentite questo rumore che poi stanno parlando ora si sentite sicuramente capito sto sfidando questo qui eh cazzo cazzo di cavo infilando porco dio questi quanti ma chi non cavo d'ingrote non te lo so fanno posto per sicurezza se non si rompe fanno bene Gli prendiamo la giù, hai caduto per terra. Ah, è il micro